è stata una sconfitta stranissima forse la più strana di tutte quelle che sono capitate in questa stagione come expected goals l'inter meritava di vincere questa partita 4 a 1 lo dicono le statistiche però poi il campo ha espresso un verdetto diverso sì purtroppo il calcio è questo noi chiaramente per quello per quello che abbiamo creato per quello che abbiamo fatto dobbiamo avere un altro risultato chiaramente siamo molto molto arrabbiati chiaramente sarà una notte dove non ci dormirà però da domani dobbiamo ripartire perché già martedì ce n'abbiamo un'altra un ottavo di finale di finale da giocarci lo faremo con tutte le nostre forze riuscito a spiegarsi cosa cosa è mancato perché la mole di gioco è stata davvero elevatissima però si è fatto troppo poco sottoporta cosa è successo no chiaramente dovevamo avere dovevamo avere quel pizzico di cattiveria chiaramente dovevamo essere più cattivi determinati a cercare il gol perché un primo tempo doveva finire 0 a 0 poi sappiamo che queste partite sono sempre viaggiano sempre in equilibrio e poi abbiamo preso un gol in ripartenza una volta che l'avevamo ripareggiata abbiamo preso il gol su calcio di rigore il calcio però per fortuna ti dà sempre un'altra un'altra chance ora arriva immediatamente la gara di champions league con il porto siamo già proiettati lì che gara dobbiamo aspettarci una gara un ottavo di finale ritorno una gara senz'altro impegnativa però abbiamo una grande occasione per riscattarci per fare un passaggio ai quarti che ci teniamo tantissimo sappiamo che non sarà semplice perché troviamo una squadra di qualità però faremo del nostro meglio grazie grazie